Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Pastore Zelantissimo della Chiesa, Sant'Antonio Maria, che in tutta la tua vita, non hai perdonato fatiche e sacrifici, per la salvezza delle anime redente dal sangue di Cristo. Ricordati, che anche noi siamo stati redenti da Gesù. Ma intanto viviamo ancora qui tra i pericoli, che potrebbero renderci inutile in eterno quel sangue divino. Dagli splendori della tua gloria, vieni in soccorso di noi poveri esuli, e parla in favor nostro a Gesù, che hai tanto amato e glorificato in terra. Ottieni a noi, che a tuo esempio distaccati dalle vanità di questa breve vita. aneliamo con tutte le forze dell'anima, alla vera fonte d'ogni bene Gesù Cristo. Affinché Egli solo sia la nostra vita, la nostra luce, il nostro conforto qui in terra, e poi la nostra gloria, e la nostra felicità nei cieli. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio Maria Gianelli. Pregate per noi.